Una stretta sulle occupazioni abusive degli alloggi di proprietà dell'Ater e del Comune di Roma, ma anche una migliore gestione degli sfratti quando siano coinvolte persone fragili, è quanto emerso dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Frattasi alla presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi.